buongiorno e bentrovati anche per questa settimana al due ruote tg partiamo subito con una prova davvero formidabile quella della aprilia rs457 la sportiva media che ha fatto letteralmente impazzire il nostro federico garbini da una prova moto a una prova scooter nella fattispecie quella del sim jet 14 200 uno scooter davvero interessante una macchina formidabile per quello che riguarda il computing urbano ed extra urbano chiudiamo infine con l'attualità e vediamo che cosa succede in casa mv agusta dopo l'acquisizione della maggioranza da parte di ktm quanto tempo ci vuole per conoscersi e quanto tempo ci vuole per innamorarsi beh conta sempre anche l'altro o l'altra le sfaccettature della personalità al carattere il feeling che si staura dopo i primi metri o minuti ore o giorni in questo caso con l'apri gli rs457 sono bastati quattro turni ed è nato qualcosa che può durare a lungo ma non lo dico solo io lo pensano in molti di quelli che hanno provata oggi dei colleghi e lo si pensa subito quando si entra in sintonia con una moto che innanzitutto facilissimo c'è poco da fare lei è nata bene ed è nata in galleria del vento ed è stata tracciata disegnata e sviluppata dai tecnici che hanno sviluppato tutte le super sportive della casa di noale dalle piccoline fino alla moto gp e quel dna quella genealogia sportiva racing si sente immediatamente con lei è una cosa diversa dalle altre una cosa diversa dalla rsv4 perché non c'è la prestazione assoluta 48 cavalli e lì ci si doveva fermare e allora si è andata a lavorare di fino e a fare un setting precisissimo su tutto il resto perché per sfruttare al meglio quelli che sono i limiti le restrizioni oltre le quali non si può andare alle regole del gioco della patente a 2 48 cavalli massimo cosa ha fatto aprilia è giocata sul peso 175 kg in ordine di marcia che determinano il miglior rapporto peso potenza della categoria 0,2 kilowatt per chilogrammo la somma fa 47,6 cavalli 35 kilowatt la priglia rs457 è la moto che mancava nella gamma sportiva di noale e va a colmare un importantissimo gap quello tra la rs 125 e la rs 660 e allora guardiamo un po' velocemente quali sono gli ingredienti ciclistica sana come abbiamo detto telaio perimetrale in alluminio forcellone in acciaio molto leggero buon ammortizzatore regolabile nel precarico così come la forcella a stelli rovesciati singolo disco anteriore pneumatici euro grip protor q personalizzati aprilia costruiti su specifiche proprie aprilia e poi una dinamica di guida e un ergonomia fatta per divertirsi davvero la linea è riconoscibilissima gli stilemi ci sono tutti a partire dal faro anteriore ovviamente full led con frecce integrate fino al serbatoio molto gobbo qua davanti che va a scaricarsi qua dietro ed è molto stretto qua e codino ovviamente snello e fuggente ci si può mai divertire con queste potenze beh è proprio lei a suggerirci la risposta oggi l'abbiamo portata all'autodromo di modena per metterla un po la frusta tra i cordoli e abbiamo scoperto che sì ci si può divertire anche quando la potenza in gioco è abbastanza poca ma appunto qui ritorna quello che è il discorso iniziale pochi chilogrammi beh allora partiamo iniziamo a guidarla quello che viene subito fuori è il carattere del propulsore partiamo dalle basi rumore bello cupo pieno di motore davvero sportivo erogazione molto precisa e comando ride by wire anch'esso molto preciso la si può centelinare millimetricamente quella che è l'erogazione di coppia e potenza buon allungo si fa il motore gira alto ma si possono sfruttare anche la coppia che è già disponibile per l'80 per cento poco più di 3.000 giri e ti porta fuori dalle curve in questa pista autodromo di modena che è molto guidata si può mantenere la terza in quasi tutte le parti più guidate e lasciarsi trasportare proprio da questo bicilindrico che a differenza della concorrenza non è quel pompone che non prende i giri o fa fatica a prendere i giri qua c'è la leggerezza anche dei componenti interni quindi poco volano e gas in mano si sale verso la parte alta del contagiri elettronica ricca e si governa tutto da quelli che sono i blocchetti elettrici multifunzione abbastanza precisi fatti per essere comandati con facilità proprio anche durante la guida ci sono tre mappature eco rain e sport ci sono tre livelli del controllo di trazione e c'è una bs che è disattivabile al posteriore per quando si guida in pista il marchio qua sul serbatoio aprilia racing racconta già tutta la storia si vede che una moto che è stata sviluppata costruita da appassionati da gente che le ruote sul cordolo le mette davvero ed è una cosa che viene immediatamente fuori quando la provi e riscopri quel dna cui la casa di noale ci ha abituato ormai da tantissimi anni e tutti i titoli mondiali che ha portato a casa nel corso della sua storia beh non sono frutto del caso e qui si sente che quel dna è quello lì non c'è altra scelta ergonomia molto centrata in se la si può arretrare e avanzare senza nessun problema per andare a cercare un po di carico in staccata avanzando o in accelerazione spostandosi molto spazio a bordo pedane rialzate per dare luce a terra ma non troppo vincolanti come vedete la triangolazione non è troppo stancante serbatoio molto stretto si può stringere tra le gambe manubrio largo che dà un ottimo controllo sull'avantreno non ce n'è molto bisogno perché una delle grandi doti di questa moto è proprio l'enorme agilità data dal pneumatico da 110 anteriore ma soprattutto come vi dicevo da ciclistica molto bilanciate da un peso leggero che aiuta a dimenticare totalmente quelli che sono i soli 48 cavalli del bicicletto frizione morbidissima cambiata veloce con quick shifter bidirezionale offerto come optional a proposito di optional si può pescare tra quelli che sono i tanti accessori offerti dalla casa per delineare ancora di più la sportività della moto noi oggi abbiamo provato delle 457 che avevano come accessori in post montaggio i pneumatici pirelli supercorsa la cover per il sellino il passeggero e chiaramente i tappi per coprire i buchi lasciati dall'assenza dei specchietti retrovisori si può anche aumentare il carico con pedane ricavate dal pieno arretrate e poi andare a personalizzare ancora di più la moto che è disponibile in tre colori e il prezzo è molto molto interessante 7.199 euro moto vera sportiva vera tantissimo divertimento e dico sul serio grandissimo equilibrio dinamico grandissima precisione è un motore su cui si può davvero contare con un'erogazione sempre pronta una bella curva di coppia che non fa mai sentire la mancanza di cavalli il cambio molto veloce soprattutto su quelle accessoriate con i quickshifter è molto preciso si possono usare tutte le marce senza avere quei cali sintomatici di cubature così piccole ciclistica molto molto precisa per questi turni in pista abbiamo precaricato un po il mono posteriore ma se volete non c'era non ce n'era praticamente bisogno perché la moto in un lampo si inserisce in curva raggiunge il punto di corda che prosegue prosegue perfettamente seguendo la linea con una precisione assoluta davvero da aprilia e poi fuori dalle curve beh che bello quando puoi srotolare tutto il gas e contare su un controllo di trazione che funziona davvero è un'erogazione così piena così morbida e si può appunto mettere le marce una via l'altra all'inseguimento del retilineo insomma volete una sportiva vera senza rinunciare a nulla e stando solo nei limiti imposti dalla patente a due aprilia rs457 una risposta che vi accontenterà assolutamente quale che sia la vostra passione perché su strada promette di essere davvero confortevole oggi non l'abbiamo guidata sulle sulle strade aperte ma comunque la posizione di guida lo dice molto chiaramente che si possono affrontare dei chilometri e poi tanto divertimento in pista soprattutto su una pista così guidata così corta dove quelle che sono i doti o i limiti della ciclistica verrebbero immediatamente fuori e qui sono apparsi quasi solo esclusivamente le doti vogliamo cercare l'ultimo piccolo appunto beh la frenata l'anteriore singolo disco ha abbastanza mordente ma se volete meriterebbe se cercate la prestazione assoluta una pompa un po più aggressiva come vi dicevo quattro turni per innamorarsi poco più di un'ora e quanto basta per prendere tutta la confidenza per scoprire che aprilia ha fatto centro la rs457 è una super sportiva vera nemmeno troppo in miniatura perché rispetto alla 660 la sorella maggiore le differenze in termini di misure non sono così diverse ma per trovare tutto quel feeling tipico cui le moto della casa le sportive della casa di noale ci hanno abituato nel corso degli anni è un amore profondo sincero che vi colpirà se sia che siate motociclisti esperti che alle prime armi non ci si stanca io per esempio non vedo l'ora di rentare tre cordoni nonostante quello che è già passato che cosa si può chiedere a uno scooter che ci serve per il commuting urbano e extra urbano beh sostanzialmente sono tre le caratteristiche deve andare il più forte possibile compatibilmente con i limiti di legge deve essere leggero e maneggevole deve essere confortevole e sì magari se ha la pedana piatta è anche meglio e se costa poco poi veramente abbiamo fatto bingo ebbene sim jet 14 200 queste caratteristiche le ha veramente tutte magari non sarà il più glamour il più aggiornato o il più tecnologico scooter della gamma molto grande della casa taiwanese eppure noi che lo abbiamo provato veramente per centinaia e centinaia di chilometri possiamo garantirvi che questo è probabilmente il miglior prodotto di sim perché diciamo questo bene partiamo dal motore sim jet 14 200 ha un motore 200 no in realtà è un 169 centimetri cubici per 12,4 cavalli di potenza tanti magari no però è quello che serve per andare bene sia in città dove questo è veramente una bomba sia soprattutto nell'extraurbano infatti tangenziali autostrade c'è le macchine benissimo magari non farete velocità di punta eccessive però comunque si sta molto bene nel traffico insomma il motore è veramente molto versatile tutto grazie a un monocilindrico ancora raffreddato ad aria ma comunque già omologato euro 5 motore che tra le sue caratteristiche ha anche quella di consumare veramente poco infatti con 7 litri e mezzo di benzina pari a un pieno si fanno praticamente 215 220 chilometri veri nell'uso misto insomma una buona media parliamo poi di maneggevolezza sì perché questo sim jet 14 200 ha dalla sua due caratteristiche un peso assolutamente leggero messo sulla bilancia sono appena 134 chili con il pieno quindi veramente pochi inoltre è particolarmente maneggevole merito di che cosa di queste due ruote e ruote con cerchio da 14 dal profilo veramente sottile per qualcuno potrebbe essere un handicap no vi diciamo noi lo abbiamo provato veramente a lungo e possiamo garantire che con questa conformazione con questa ciclistica le pieghe vengono bene la maneggevolezza è elevatissima e tutto non va a discapito della sicurezza inoltre possiamo garantire che questo paragonato magari a un ruota alta per il commuting quindi un ruoto alta da 16 vince a mani basse ma ricordiamoci che al di là delle prestazioni parliamo sempre di uno scooter e lo scooter è in primo luogo comodità la comodità nel jet 14 è data da una cosa sola in primo luogo la pedana piatta sim da anni fa delle pedane piatte una sorta di suo cavallo di battaglia le ha portata anche su questo modello ma non è soltanto la pedana piatta come vediamo anche salendoci abbiamo ampio spazio per le ginocchia io sono alto 1,78 quindi sono nella media per non dire medio bassa però anche un rider più alto può trovare altrettanto comfort perché come vedete lo spazio tra le ginocchia e le pedane è ancora veramente tanto sempre in tema di comfort possiamo anche incominciare a parlare del sottosella che negli scooter è una cosa fondamentale beh vediamo che aprendo con un comando abbastanza standard quindi azionando il blocchetto il sim jet 14 il sottosella è decisamente capiente come vedete ci sta un casco jet e c'è ancora molto spazio se avete un casco integrale di piccole dimensioni beh ci sta anche quello quindi dicevamo il jet 14 magari non sarà uno scooter glamour o particolarmente tecnologico ma è comunque molto solido e la solidità si vede dai piccoli dettagli basta anche vedere la modalità in cui si può chiudere la sella il gancio è questo qui e la chiusura è solidissima ed è solido anche in altri tipologi di dettagli come ad esempio la maniglia a cui si può appoggiare il passeggero certo è abbastanza come dire tagliata con laccetta nello stile ma è comunque molto solida e la stessa impressione di solidità la danno anche altri dettagli come ad esempio le pedane si si azionano a mano non hanno molle mollette non rientrano magari non saranno bellissime da vedere ma sono veramente molto resistenti se parliamo poi di qualità complessiva vediamo come comunque le plastiche dello scooter siano solide e ben assemblate certo però anche il jet 14 come tutti i prodotti sul commercio non è esente da difetti quello che non ci piace è l'assemblaggio generale del cruscotto perché come si può vedere ci sono ancora troppi troppi cavi a vista sicuramente un assemblaggio un pochino più curato avrebbe evitato come dire questo effetto da bicicletta vecchio stile ecco però sicuramente si può pensare che uno scooter un po più moderno una sua evoluzione probabilmente elimineranno questo difetto di forma per quanto riguarda il resto vediamo come le funzionalità complessive siano abbastanza standard abbiamo in questa zona del retroscudo un gancio dove poter appendere una borsa mentre qui a sinistra abbiamo un vano con uno sporterino in plastica che però non è chiudibile con una chiave in cui si possono riporre degli oggetti e addirittura c'è anche la presa usb continuando con l'analisi dello scooter vediamo come i blocchetti di comandi siano magari non bellissimi non ricercatissimi ma comunque molto solidi e molto essenziali non abbiamo la funzionalità del lampeggiante per gli abbaglianti che possono essere messi solamente in posizione fissa e abbiamo anche qui la possibilità di aprire il sottosella attraverso un comando posizionato qui nel blocchetto di fatto con il sottosella si può aprire in due modi o azionando la chiave oppure con il quadro acceso premendo il pulsantino che è situato qui alla prova dei fatti lo abbiamo già detto prima vale la pena ribadirlo il simjet 14 è veramente un animale da città e anche da superstrada autostrada merito di che cosa di un interasse contenuto 1350 mm che unito anche alla ciclistica e alla conformazione delle ruote lo rende veramente snello piacevole agile veramente comodo in tutte le situazioni inoltre in un uso prolungato come quello che ne abbiamo fatto noi abbiamo dovuto anche affrontare molte frenate di emergenza beh in questo caso possiamo garantire il doppio freno disco abbiamo l'anteriore da 260 e il posteriore da 220 hanno funzionato benissimo merito anche di un abs che entra in maniera precisa puntuale quasi troppo anticipata ma sempre veramente in funzione salva vita dopo averlo provato abbiamo capito perché il sim jet 14 magari non in italia ma in tutto il resto di europa è il modello più venduto della gamma sim magari non sarà bellissimo ma una funzionalità veramente da record inoltre dobbiamo tenere presente il prezzo 3099 euro al netto delle promozioni e al netto del fatto che a fine anno questo veicolo verrà sostituito dal jet 14 evo che abbiamo visto a ecma 2023 quindi è il momento migliore per acquistare un veicolo del genere la notizia era nell'area da tempo ma finalmente è arrivata la sua ufficialità ktm ha rilevato la maggioranza di mv agusta nel novembre 2022 infatti ktm aveva rilevato il 25,1 per cento delle quote di mv agusta e in un primo momento aveva incominciato occuparsi solamente della parte della supply chain quindi della fornitura delle componentistica e della distribuzione e della parte commerciale dell'azienda varesina ktm però ha deciso di imprimere un'accelerazione molto forte al suo ingresso più massiccio in mv agusta infatti rilevando un ulteriore 25 per cento è arrivata a possedere la maggioranza del pacchetto azionario attualmente infatti la compagine vede ktm al 50,1 per cento mentre la restante parte è ancora in mano di timur sardarov l'imprenditore russo che qualche anno fa aveva rilevato l'azienda da giovanni castiglioni ha avuto il merito di incominciare un piano di rilancio senza però arrivare mai a concretizzarlo definitivamente in sostanza c'è stata una grossa mancanza di capitali e di politica industriale che solamente l'ingresso di un socio importante come ktm può garantire d'ora in avanti che cosa succederà in questo momento ktm ha il controllo totale dell'azienda quindi potrà incominciare a intervenire anche sulla parte industriale e quindi anche di progettazione e sviluppo della gamma dei modelli futuri il primo segnale di questo cambiamento è arrivato anche dal punto di vista dell'assetto societario infatti adesso in mv agusta comanda ubert trukenpols che riveste le figure di presidente e di amministratore delegato trukenpols non è una figura qualunque nel gruppo ktm infatti è di fatto il braccio destro di stefan peter e quindi il numero due dell'intero gruppo austriaco timur sardarov invece mantiene la qualifica di vice presidente che è sostanzialmente un ruolo non operativo e il ruolo di ambasciatore del marchio nel mondo e anche per questa settimana siamo arrivati alla fine del ruolo 3tg ricordate di lasciare un like se la puntata vi è piaciuta e di scrivere un commento qua sotto se avete qualcosa da chiederci e mi raccomando seguiteci sempre su tutti i nostri canali social e attivate le notifiche per non perdere nessuna delle novità del mondo due ruote